Ma non è meglio che per esempio la tecnologia faciliti la genuinità, si parla di genuinità nella raccolta degli elementi di prova. Un disegno di legge a firma del senatore Luciano D'Alfonso che modificherebbe gli articoli 134, 139 e 141 bis del codice di procedura penale. L'idea dell'ex presidente della regione Abruzzo è quella di videoregistrare per legge ogni interrogatorio effettuato dalla polizia giudiziaria, in modo che ciò che non sia immortalato in video non possa essere utilizzato come prova in sede di tribunale. Obiettivo quello di limitare i comportamenti scorretti degli investigatori, che tramite domande capsiose, intimidazioni e vessazioni possono facilmente assumere ciò che più conviene alle indagini, anche curvando il racconto dell'interrogato. Le indagini preliminari nella parte del procedimento hanno anche fatto sanguinare per il dolore psicologico e emotivo molti cittadini estranei e la videoregistrazione è garanzia di memoria remota dell'intero per tutti, cioè per chi fa l'indagine, per colui il quale è indagato, per la persona informata sui fatti e anche per il giudice che è terzo e ha bisogno di avere la visione dell'insieme, ma anche per l'avvocato della difesa. E le domande insidiose, quelle che mettono all'angolo, quelle che fanno safari, quelle che trattano la persona umana come zolla di carne e non titolare di dignità, quelle domande lì non saranno più possibili. Qual è lo spirito di questa iniziativa? Non di organizzare dispettosità, ma di riempire un vuoto nell'ordinamento perché non è giusto che tutti soffrano. Il disegno di legge è già al vaglio della Commissione Giustizia. Il senatore ha preso spunto per la proposta dai numerosi processi in cui è rimasto invischiato, su cui sta allestendo anche uno spettacolo teatrale. Io conosco la materia del diritto penale per essere stato un utente riuscito, la metto così per sorridere, e ho conosciuto anche molti di questa filiera di accertamento che sono state le persone assunte a sommare informazioni.